La presentazione di oggi è stata fantastica e Yuki è stato il pretesto per essere qua. Avere il duomo alle spalle, essere la società di Milano ti inorgolisce, allo stesso tempo ti dà un senso di responsabilità importante. Vedremo come andranno le cose in campo, noi cerchiamo di fare il possibile fuori dal campo per attorniare tutte le cose che sta facendo il nostro allenatore. Sarà un campionato nuovo, diverso, che probabilmente avrà anche dei valori diversi dopo il Covid, un segnale importante per lo sport? Un segnale per lo sport? Io già dall'anno precedente volevamo essere un segnale per Milano. Noi abbiamo fatto i campionati degli oratori, abbiamo fatto i campionati delle scuole, abbiamo creato l'academy sport and work, abbiamo fatto tutto quello che potevamo per dare visibilità agli invisibili. Assieme alla fondazione Umanamente abbiamo fatto quel rapporto che portava i ragazzi invisibili, quelli che una volta si chiamavano down, quelli che erano senza gambe, quelli che giocavano prima di noi. Quindi tutte queste manifestazioni sono state straordinarie perché ovviamente bisogna ripartire. Adesso ho detto ai miei giocatori, ai miei agenti, ai miei personale, ai miei dipendenti, ragazzi i nostri nonni hanno ricostruito Milano dalla guerra. E quindi a maggior ragione viene più facile per noi fare qualche cosa. Facciamolo e poi vediamo come andranno le cose.